Uno dei fattori più importanti per capire se si è veramente produttivi durante la giornata è capire come spendiamo il nostro tempo. Oggi ti vado a illustrare 5 applicazioni che fanno proprio questo. Ti possono aiutare a tracciare il tuo tempo che passi online per computer, iOS e telefono Android. Se sei un neofita di queste applicazioni ti consiglio di installarne semplicemente una delle tante che ti dico per capire e avere un'idea generale di quanto tempo spendi veramente sul tuo cellulare. Fidati, ti stupirai. Prima applicazione che ti vado a presentare si chiama StayFocused. Originariamente StayFocused è progettata per i computer, comunque hanno fatto anche l'applicazione Android e mi piace un sacco, peccato che per iOS non c'è niente. StayFocused serve per darti un limite di tempo sotto determinati siti, infatti ti permette di tracciare il tempo che passi ad esempio su YouTube e di porti dei limiti. Ad esempio io mi impongo un limite di 45 minuti massimo su YouTube per computer. Così almeno poi da non poter trasgredire. È molto difficile trasgredire l'applicazione una volta finito il timer, infatti ti blocca l'intera pagina e non ti permette più di utilizzarla. O disinstalli l'estensione o l'applicazione se stai utilizzando dal telefono, oppure vai sulla scheda in incognito. Infatti di scheda in incognito non ci sono le estensioni. Inoltre l'applicazione Android l'ho scoperta e fa anche il tracking del time che passi sul tuo dispositivo e non ti dà semplicemente l'opzione di bloccare in base al tempo che spendi su un'applicazione. Puoi fare bloccare in base al tempo complessivo che passi sul telefono, bloccare in base al tempo che passi anche sulle singole applicazioni, oppure al quantitativo di volte che utilizzi un'applicazione. Bloccamelo quando supero le 30 volte che entro su Instagram, ecco. E tutte le volte che ti avverte oppure ti blocco un'applicazione, ti metto una frase motivazionale. In più c'è anche la modalità lock che serve proprio per gli scemi come me. Praticamente ti metti un blocco nel disinstallare l'applicazione. Te vai da un tuo amico, gli dai il telefono, gli dici Giovanni per favore mettimi una password, qui ti mette la password. Tutte le volte che vorrei disinstallare l'applicazione per trasgredire i timer, dovrei per forza digitare la password. Seconda applicazione Space, la puoi trovare sia su Android che su iOS. Ti consiglio di installarla perché è stata la mia prima applicazione che ho provato di questo genere. L'ho installata da più di 300 giorni e roba del genere. E ogni tanto ci do un'occhiata per capire quanto tempo spendo sul mio cellulare. Molto utile perché fa tutto in automatico, può entrarci quando vuoi, le statistiche rimangono lì e nessuno te le ruba. C'è un problema con tutte queste applicazioni, dovete eliminare la modalità risparmio energia. Se no il telefono vi farà le vizze e non vi farà andare queste applicazioni in background. È molto utile perché ti divide anche la gente secondo le diverse fasce. Ad esempio dai 15 ai 24 anni, maschi, femmine oppure studenti. A proposito la funzione studenti a pagamento. E cosa volevi fare gratis? È no amico mio. Seconda applicazione, No Social, come potete capire, è progettata esclusivamente per bloccarti dai social. L'avevo utilizzata un po' di tempo fa e l'ho installata principalmente per paragonarla a Space. Volevo vedere se effettivamente funzionavano oppure si inventavano i tempi. Ho scoperto che più o meno funzionano. Infatti hanno un tempo di differenza di 3-5 minuti a testa. Alcune volte più avanti una, altre l'altra. No Social ti permette di paragonarti ad altre persone che utilizzano la stessa applicazione e il server generale fa la media e ti fa vedere gli altri quando usano il loro telefono. Ha anche delle altre funzioni, però ritengo che ci siano delle applicazioni, ad esempio StayFocused, migliori sotto questo aspetto. Penultima applicazione che vi vado a presentare si chiama AtimeLogger. È presente sia su Android che su iOS in questo caso e serve per calcolare il proprio tempo. Solamente che a differenza delle altre non è automatico. Questo ti porta a un livello di precisione molto più alto in confronto alle altre applicazioni. Infatti ogni volta che inizia ad esempio una task, una cosa che fai, devi segnarlo in questa applicazione. Alla fine della giornata vedi cosa hai fatto durante la giornata. Avevo fatto l'esperimento per una settimana di calcolare tutto quanto minuziosamente quello che faccio. Mangiare, dormire, fare la doccia, andare a qualsiasi cosa. Vi consiglio di vedere e di provarla per capire se anche a voi succede la stessa cosa. Ultima applicazione che vi vado a presentare, stavolta non è un'applicazione bensì è per computer e si chiama RescueTime. La potete trovare come estensione su Google Chrome. Non so se ci sia anche solo iOS, non so nemmeno se ci sono le estensioni su iOS. A differenza degli altri programmini RescueTime ti traccia il tempo in un modo leggermente diverso. Infatti riesce a recepire tutti i tuoi programmi che stai utilizzando e che tipo di programma tu stai utilizzando in quel momento. E ti categorizza le diverse programmi secondo diverse categorie. Tempo veramente distraente, very distracting time, oppure tempo produttivo. Puoi vedere nella tua giornata la differenza di questi due tempi che hai passato di fronte al computer. Inoltre alla fine della settimana ti invia un report via email di tutte le ore che hai passato di fronte al tuo computer e le compara a quelle delle settimane precedenti. Ovviamente se vai sull'estensione sul sito ufficiale puoi vedere il tuo quantitativo di tempo speso negli anni, nei mesi, nei giorni, eccetera. Bene, spero che queste applicazioni siano state utili. Se volete scrivetemi nei commenti delle altre applicazioni. Io sarei strafelice e anche di sentire una vostra sincera opinione riguardo a questo video. Ci si vede settimana prossima con un nuovo video e con una voce stridula così ci si vede e basta.